continua la settimana di san valentino ma anche oggi niente cuoricini solo wad martedì 12 febbraio 2019 partiamo con un unrap 15 minuti l'hanno scritto due volte unrap 15 minuti 15 hunk power clean 60 double under 15 chest to bar pull up e 60 double under come al solito le scalature e tutto il resto sulla grafica qui di fianco ci vediamo domani per un altro wad insieme su cper tv